Ciao a tutti e benvenuti su Amico PC quest'oggi vogliamo parlarvi di IndieDB dove DB sta per database si tratta di un portale gratuito che non necessita di registrazione e che offre la possibilità di scaricare numerosi IndieGame tramite il portale avete la possibilità di scoprire fantastici giochi gratis per PC partendo dai top 100 ai più votati alle app mobile e alla possibilità non solo di spulciare tutti gli Indie presenti sul sito ma anche di aggiungerne di nuovi quindi se avete i vostri Indie potete pubblicarli su questo sito per ogni applicazione quindi per ogni gioco è presente non solo un video dimostrativo o più video ma anche la possibilità di ricevere maggiori informazioni tramite una breve descrizione con tanto di foto e la possibilità di scaricare una versione dimostrativa o completa del gioco inoltre è presente su registrazione o tramite il sito o tramite i canali social o addirittura tramite l'account Steam la possibilità di lasciare un commento al di sotto dei vari Indie se siete alla ricerca di nuovi giochi e volete scoprire passatempi divertenti o altri capolavori che non approdano su Steam ma che spesso vengono rilasciati in anteprima tramite IndieDB allora non vi resta che visitare questo fantastico portale se questo video vi è piaciuto cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale e lasciate un commento con le vostre considerazioni personali grazie a tutti grazie a tutti